Arriva un braccialetto anti-assembramento e saltafila per assistere alla 140esima edizione della giostra del Saracino in programma per domenica 5 settembre alle 17 e alla prova generale venerdì 3 settembre alle 21.30. Le norme anti-covid prevedono infatti il possesso del Green Pass per l'accesso in Piazza Grande, ma l'amministrazione comunale adesso ha pensato anche a questo nuovo strumento. Per agevolare l'ingresso nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 per la prova generale e di sabato 4 e domenica 5 invece per la giostra del Saracino saranno allestite due postazioni presso il presidio della Polizia Municipale in Piazza Guido Monaco e in via Bicchieraia 26 dove i titolari dei biglietti potranno recarsi per il controllo del Green Pass. Una volta verificata la validità della certificazione verde Covid-19 sarà rilasciato un braccialetto che permetterà di accedere direttamente alle tribune di Piazza Grande senza necessità di controllo a questo punto del Green Pass all'ingresso. Tale meccanismo permetterà di sveltire le operazioni di accesso del pubblico evitando file da assembramenti ed il percorso è fortemente consigliato ai partecipanti da tutta la macchina organizzativa Agli accessi saranno così allestite due file, una prioritaria per chi si è munito di braccialetto ed un'altra riservata invece a coloro che dovranno effettuare il controllo del Green Pass